Ciao a tutti, oggi prepareremo il risotto con pere e gorgonzola. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono pere tagliata a dadini, riso carnaroli, gorgonzola, dado bimbi vegetale, parmigiano, acqua, pepe, sale, vino bianco, burro e scalogno. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo mettendo nel boccale lo scalogno. E lo andiamo a tritare per 7 secondi a velocità 7. Aggiungiamo sul fondo lo scalogno. Andiamo ad aggiungere il burro. e andiamo a insaporire tutto per 5 minuti. 120 gradi, velocità 3. Adesso andiamo ad aggiungere il riso. E lo andiamo a tostare per 3 minuti. 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Andiamo ad aggiungere il vino dal foro del coperchio. Lo andremo a sfumare per un minuto. 100 gradi, anti-orario, velocità soft, senza il misurino. Adesso andremo ad aggiungere l'acqua. Il dado vegetale fatto col bimbi. Il sale. E il pepe. Molto importante adesso con la spatola girare bene il risotto per evitare che si attacchi sul fondo durante la cottura. Dopo aver mescolato il riso aggiungiamo anche la pera. E cuociamo il tutto per 13 minuti. 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Adesso andiamo ad aggiungere il parmigiano grattugiato. E il gorgonzola. E il gorgonzola. E andiamo ad mescolare per un minuto. anti-orario, velocità soft, senza temperatura. Il nostro risotto è pronto. Andiamo ad aggiungere il risotto per evitare il gorgonzola. Grazie e alla prossima ricetta.